Involtini di coniglio con asparagi e cremino al parmigiano. Un piatto sano e buonissimo. Per prepararli ho utilizzato le sottilissime di coniglio aia. Insaporite la carne con le spezie e poi appoggiate sopra la scamorza e le punte di asparagi già cotte. Arrotolate tutti gli voltini e poi rinfrizzateli su uno stecchino alternandoli con delle foglie di salvia. Fate rosolare bene gli spiedini con un po' di burro o olio e salvia. Quando sono ben dorati fate sfumare un bicchiere di vino bianco e lasciate cuocere. Nel frattempo preparate la besciamella con burro, farina e latte e arricchitela con del parmigiano grattugiato. Quando gli spiedini saranno ben cotti impiattate con questa buonissima cremina al parmigiano.